Minister, salve, Davide Mangiapane, Messina del pallone. Si aspettava così facile questa vittoria? O era memore delle ultime due volte in cui era venuto qui a Messina? Insomma, aveva dovuto subire una sconfitta, magari aspettandosi un risultato diverso. No, assolutamente non mi aspettavo. Adesso a fine partita è troppo semplice dire che è stata facile. Ti posso garantire che non è stata così. Avevamo visto le ultime prestazioni del Messina che erano state ottime prestazioni, anche col Benevento, gli è mancato solo un pizzico di fortuna, quindi sapevamo di venire in un campo difficile, un campo difficile dove la squadra ha sempre giocato, poi l'abbiamo preparata così, sapevamo anche che Messina ha una difesa molto alta e quindi abbiamo inserito gente veloce da dietro e abbiamo sfruttato le nostre caratteristiche. Poi siamo stati bravi, sono stati bravi ad andare in vantaggio, ad andare in superità numerica e alla fine oggi, adesso diciamo che è stato tutto semplice, però ti posso garantire che è stata una partita combattuta e non semplice. Bravi ragazzi che l'hanno fatta diventare semplice. Ministro, su questo aspetto della preparazione della partita, però si aspettava Manetta Terzino, quindi magari se l'ha un po' sorpresa, ho visto che lei ha mosso i suoi tre davanti, Fella ogni tanto scalava sulla tre quarti, quindi anche nella lettura della partita forse lei e la sua squadra siete stati più lucidi, nelle fasi soprattutto iniziali della sfida e siete stati bravi a indirizzarla dalla vostra parte. Sì, sapevamo che Messina giocava in questo modo, a prescindere poi dagli interpreti, pensavo sinceramente che gioca sepolito sulla fascia invece di Manetta, poi si sono trovati lui, però a prescindere da loro, ai miei ragazzi ho detto che oggi sarebbe stata una partita difficile, dove dovevamo dare tutto quello che avevamo e l'hanno interpretata molto bene e in un primo momento dove siamo andati in difficoltà perché in sua partita il Messina ha preso campo, siamo stati bravi a ricompattarci, a capire le uscite e alla fine è venuta questa partita meritata, la vittoria ampiamente meritata. Classifica esaltante, avete il doppio dei punti del Messina, qual è l'obiettivo realistico? Perché ormai non si può parlare più di sorpresa, questa è una realtaggia da qualche stagione, non so se inizia a alzare un po' l'asticella oppure se cautamente preferisce tenere un profilo più basso. Noi siamo una squadra giovane, come abbiamo detto dall'inizio siamo prefissati di migliorarci ogni singola giornata, noi lavoriamo per il miglioramento quotidiano e poi se i risultati sono positivi come in questo momento benvengano, però l'obiettivo nostro è quello di guardare la giornata e cercare appunto di essere competitivi al massimo perché questo è un campionato difficile, molto equilibrato e duro. Grazie a tutti!